La storia di oggi la portiamo, parla di un viaggio in un paese lontano. La storia di oggi la portiamo, parla di un viaggio in un paese. La storia di oggi la portiamo, parla di un viaggio in un paese. La storia di oggi la portiamo, parla di un viaggio in un paese. Grazie a tutti.